Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti a questo video tutorial su Edmodo, in cui vedremo come si consegna un compito con Edmodo. Ho creato uno studente di prova, l'ho chiamato Lupo Cattivo, è uno studente particolare perché, data la conformazione della sua bocca, insomma, ha anche difficoltà, è diciamo un base, abbiamo dovuto fare anche un PDP per lui, ma vediamo come Lupo Cattivo può consegnare il suo compito. Ecco, siamo nel gruppo a cui è scritto Lupo Cattivo, nella classe Lupo Cattivo, e Lupo Cattivo, essendo uno studente, ha la possibilità di disporre del centro compiti. Può selezionare il compito che gli interessa e immediatamente recarsi, cliccando qui a svolgerlo. Ma se voi siete dei docenti e quindi siete iscritti come docenti e non avete il centro compiti qui sulla destra, come fate per andare a ritrovare il compito che vi è stato assegnato e che trovate, la cui scadenza trovate anche nel calendario? Bene, occorre ricorrere alla fondamentale funzione di filtraggio dei messaggi. Filtra messaggi, clicchiamo su questo menu e vedete che possiamo filtrare messaggi, questo è importante perché con l'andare avanti dello stream, diciamo, dell'elenco dei messaggi che si succedono l'uno all'altro, diventa veramente difficile andare a recuperare un messaggio, possono essere decine se non centinaia e quindi dobbiamo ricorrere a questa funzione. Filtra messaggi, in questo caso ci interessano i compiti e infatti vediamo che abbiamo vari compiti. Apriamo. Prima di aprire un'altra possibilità che ci viene data è quella di usare il menu contestuale del singolo messaggio, cliccarvi sopra e possiamo aggiungere il messaggio nello zainetto. Il backpack o zainetto, questo è il nome che ha la libreria nella visualizzazione dello studente, nella visualizzazione del docente si chiama libreria ma è la stessa cosa. In questo modo il posto viene salvato e lo possiamo immediatamente recuperare senza doverlo andare a cercare. Ma dicevo apriamo il compito. Ecco qua, mi viene mostrata le istruzioni, io adesso non seguirò queste ma vi mostrerò cos'è possibile fare. Possiamo o creare un documento di risposta o possiamo allegare un file dal nostro computer, un link, un collegamento dal web o un file che abbiamo nel nostro zainetto o un file da Google Drive. Bene, noi adesso allegheremo un link come esempio. Qui mi si chiede di incollare il link di un podcast, noi abbiamo preparato questa immagine e siamo il lupo cattivo e quindi ci interessano i tre porcellini. Clicchiamo su collegamento web e inseriamo il link o col tasto CTRL V o come sapete col tasto destro e incolla. Clicchiamo, dobbiamo avere l'accortezza di cliccare poi fuori dal riquadro perché viene recuperato il titolo, in questo caso non mi ha dato nessun titolo, quindi lo inserisco io. I tre porcellini. Ok. Ecco il mio compito che è stato incorporato in questa miniatura, i tre porcellini. Cliccando qui, come vedete, vado all'immagine. Bene, adesso cosa dovrò fare ancora per consegnare il compito? Beh, cliccare su consegna compito. Ho inserito il link, lo consegno, mi si dice che verrà avvisato l'insegnante che ho finito e a questo punto clicco il tasto consegna e vedete, mi si avvisa che il lavoro è stato consegnato e che il mio insegnante è stato avvisato. Posso anche riconsegnare il compito se non sono soddisfatto, posso scrivere un messaggio e via dicendo. Bene, questo è tutto. Chissà quando prenderà il nostro lupo cattivo. In attesa di saperlo, vi saluto e vi auguro una buona giornata.